La rivoluzione pacifica di Salvador Allende si concluse l'11 settembre 1973 col golpe militare che aprì la strada alla dittatura sanguinaria del generale Augusto Pinochet, durata fino al 1990. Nel 1970 Allende era stato eletto presidente del Cile con un programma di riforme in favore delle classi più deboli. Riuscì a nazionalizzare buona parte delle grandi industrie, delle aziende agricole, delle banche e anche delle miniere, limitando lo sfruttamento delle imprese statunitensi. Patricio Guzman, regista, biografo di Salvador Allende, che racconta in esclusiva per la fondazione di Giacomo Peltrinelli i fatti del 1973 e ci conduce ad una analisi molto asciutta, molto oggettiva su quello che è il Cile oggi dopo 40 anni da quegli avvenimenti. La unica maniera di eliminarlo era per la forza. Dopo del golpe d'Esta, gli USA pone in pratica a Chile il neoliberalismo importato da Chicago e poco a poco destruirà il tigio sociale chileno e transformano a Chile in un mercato esperimentale per provare il neoliberalismo salvaggio. Un'interessante mostra allestita alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri ripercorre la storia del Cile di quegli anni con fotografie, giornali e testimonianze. Occupare il Sud America per attuare le politiche neoliberiste, quelle politiche neoliberiste che ci hanno portato alla crisi economica di oggi, che non cambia se noi guardiamo televideo per vedere lo spread com'è, ma cambia se cambiamo le politiche economiche, culturali e sociali. E una cosa importante ci ha insegnato agli ente, che sono le politiche dell'umanismo, cioè la persona al centro dell'azione politica. Curata dal professor Nocera dell'Università Orientale di Napoli, con materiali tratti dall'archivio della Fondazione Feltrinelli, la mostra resterà a Napoli fino al 27 novembre.